Presidente Grazie Grazie Saluto e ringrazio innanzitutto il grande onore che si fa il Presidente della Repubblica, Professor Sergio Mattarella Signor Presidente della Repubblica, la sua presenza onora l'Associazione Bancaria Italiana nel centenario della nascita che avvenne a Milano nel 1919 in una fase fortemente influenzata dall'economia di guerra che vite l'impegno straordinario anche delle banche per l'indipendenza italiana Grazie Presidente e grazie a tutti voi Grazie 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 Grazie